quinto giorno di quarantena dopo il ritorno dall'estero arrestato in turchia perché avevo passaporto italiano bloccato in frontiera polizia che non mi lasciava passare il mondo sta tornando indietro no all'epoca delle frontiere delle chiusure e dopo tanti anni in cui eravamo abituati a poter girare viaggiare muoverci iniziamo forse a capire cosa voglia dire tornare in un mondo chiuso credo che al di là di quello che sarà il tempo che dovremo rimanere in casa quello che sta accadendo sia una anche una grande lezione di vita no tornare ad avere tempo per noi stessi per pensare in un mondo frenetico questo è un problema perché non siamo più abituati a farlo però anche vero che dopo le grandi epidemie è sempre nato un'epoca nuova no la peste del 300 che ha portato a milioni di vittime ha poi causato l'inizio della scrittura e tante altre cose della stampa non della scrittura chiaramente e sono sicuro che in questo momento tanta gente chiusa in casa sta pensando cosa fare dopo no quante nuove start up quante nuove idee nasceranno da questa chiusura in casa quante nuove relazioni umane di aiuto nasceranno non nell'epoca di facebook siamo tornati a dover vivere insieme agli altri a dover parlare anche al fatto che ci manchino gli altri non è più sufficiente facebook non è più sufficiente una chat abbiamo bisogno del contatto con gli altri è un grande insegnamento questo speriamo che tutto riparta fa breve però speriamo anche che ciò che abbiamo appreso in questa crisi ci servirà anche ad iniziare in un modo in un modo nuovo